Un milione di euro è stato stanziato dalla Camera di Commercio di Torino per sostenere il comparto economico messo a dura prova dall'emergenza coronavirus. Torino è prudente, dice il presidente Dario Gallina, ma non si ferma di fronte all'emergenza. Le forze economiche sono determinate nell'attivare una forte e comune azione di rilancio.